Ciao ragazzi, Ivano Arredezio Conza per presentarvi l'ultima chicca dell'Elettra Standard Modellier 19. La moto costa di listino 25.400 euro, ve la proponiamo a 23.000 euro. Ultimi due pezzi disponibili. A presto! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Eccola qua, l'Elettra Standard, innessione alleggerita per correre più forte. Non ha il navigatore, non ha la sella del passeggero, non ha le pedane del passeggero, ma una bella sella mono e nera. Vi aspettiamo in Arrede Davidson Monza, venite a prendermela. Ciao ragazzi!